C'è un brano anonimo del XV secolo, è detto tour d'ion ed è un ballo di coppia molto famoso soprattutto in Francia, ma anche in Italia e in Spagna durante il XVI secolo. La prossima è Cangebois, è un brano anonimo del XV secolo, è chiamato tour d'ion ed è un ballo di coppia molto famoso, soprattutto in Francia, ma anche in Italia e in Spagna durante il XVI secolo. La prossima è Cangebois, è un brano anonimo del XV secolo, è un brano anonimo del XVI secolo, è un brano anonimo del XV secolo. La prossima è Cangebois 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 La prossima è Cangebois